ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerò i foglietti illustrativi degli alimenti veterinari più utilizzati prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori alimentari parafarmaci farmaci veterinari alimenti veterinari o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'alimento veterinario savegard e quali tss rl ultimo aggiornamento primo febbraio 2023 informazioni commerciali confezioni formulazione indicazioni posologia informazioni commerciali titolare e quali tss rl concessionario e quali tss rl confezioni savegard secchiello da 3 kg formulazione farinaccio di riso farina di estrazione di soia fermentata fermsoi lievito di birra pareti cellulari da saccarumice socerevisiae carbonato di calcio corteccia di urnus scarosio indicazioni savegard è una miscela di ingredienti adatti al mantenimento del benessere gastrico nei cavalli sportivi soprattutto o comunque in tutti i cavalli sottoposti continuamente a situazioni di forte stress i costituenti di savegard agiscono selettivamente sulle componenti del sistema digestivo aiutando il cavallo ad affrontare situazioni che possono compromettere la funzionalità digestiva con conseguenti cali di rendimento delle performances posologia cavallo 500 kg 100 g al giorno fattrice 100 g al giorno puledro 50 g al giorno fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato grazie a tutti grazie a tutti